Sindaco Semproni, tema caldo quello Brioni qui a Penne. Ieri avete incontrato i sindacati che operano in questo settore. Che cosa è uscito fuori da questo incontro? È stato un incontro proficuo perché ci hanno detto quali sono le loro problematiche, che in parte noi conoscevamo. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità ad interessarci del problema perché la Brioni è un pezzo importante non solo di Penne ma dell'intera area vestina. Lavorano tantissimi cittadini dell'area vestina e quindi andare in crisi con la Brioni significerebbe mandare in crisi l'area vestina. Che cosa sono state le richieste di questi sindacati? La richiesta è stata fondamentalmente quella che noi dobbiamo stare vicini alle loro problematiche, cosa ovviamente noi abbiamo accettato di buon grado e anche perché purtroppo abbiamo un problema. Noi vorremmo conoscere i problemi dell'Abrioni anche non ascoltando soltanto i sindacati ma anche ascoltando i proprietari di questo gruppo. Però fino ad ora nonostante le richieste formulate nessuno ci ha dato ascolto dal punto di vista dei dirigenti. Sarà nostra premura contattare la nuova dirigenza regionale appena si sarà insediata perché questo è un impegno che ci siamo presi e perché la Brioni rappresenta non solo Penne, non solo l'area vestina ma credo l'Abruzzo intero. È un fiore all'occhiello di questo territorio e non possiamo abbandonarlo a se stesso.